Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi torniamo indietro di oltre cinque secoli a quella Pasqua di sangue del 1512 che rimase negli annali per la sua brutalità con un bell'articolo dello storico e giurista Nicola Marchi. Prima di parlare di battaglie e mostri veri o inventati, vorrei chiedere ai non iscritti che stanno guardando questo video di cliccare sul tasto iscriviti. Non lasciateci preda non tanto dei mostri, che quelli non ce ne sono mai, ma della superstizione e del pregiudizio della folla. Aiutateci a crescere e a diffondere sempre di più le nostre storie. Grazie mille. I fatti si svolgono a Ravenna durante la quaresima del 1512, la mia città dalla quale vi sto parlando. In una piccola abitazione attigua a un convento di cui è proibito rivelare il nome e l'ubicazione, una donna sta partorendo tra atroci sofferenze. La balia incita a tener duro, ad affrontare l'ultimo sforzo. Riesce quasi a intravedere la testa del neonato quando un urlo lancinante si leva dalla camera da letto. Non proviene dalla parte oriente, ma dalla balia stessa, che cade svenuta a terra. Il neonato ha connotati innominabili e mostruosi. Un corno cresce sulla fronte, una gamba a squame di serpente e un occhio si apre orribilmente sul ginocchio sinistro. Questo demonio sarà conosciuto come mostro di Ravenna. Nato da un blasfemo rapporto sessuale tra una suora e un monaco, viene abbandonato nelle pinette circostanti su ordine diretto di Papa Giulio II per cancellare il segno tangibile del peccato della Chiesa. Anche se è superfluo specificarlo, questa è una leggenda, addirittura una delle tante versioni che al tempo iniziarono a circolare sulla presunta nascita della creatura di Ravenna. Come in tutte le leggende, è plausibile l'esistenza di un fatto reale alla sua radice. In questo caso la nascita di un neonato gravemente deforme, una bizzarria talmente disturbante da rimanere impressa nella memoria collettiva. Sin dall'antica Roma, lo Stentum, creatura nata da donna e non avente forma umana e il Monstrum, creatura avente forma umana ma gravemente deforme, sono prodigi che attirano la morbosità del pubblico. I più grandi giuristi dell'antichità hanno discusso sulla loro stessa natura umana. La popolazione superstiziosa ha da sempre riconosciuto in essi l'avvertimento divino che una sciagura stia per compiersi. Un oscuro presagio di sventura da cui guardarsi e avere timore. E come volevasi dimostrare, sul finire della quaresima di quel 1512, sulla città di Ravenna iniziano a spirare venti di guerra. Quelli sono gli anni delle cosiddette guerre d'Italia. Con la morte di Lorenzo de' Medici e la discesa del re di Francia, Carlo VIII, nel 1494, si infrange il decennale equilibrio politico tra gli stati italiani e la penisola viene attraversata da eserciti stranieri che se la contendono col ferro e col fuoco. I potenti regni di Francia e di Spagna bramano il dominio sul regno di Napoli e l'egemonia sulle terre italiche. I piccoli principati padani si barcamenano tra un'alleanza e l'altra per garantire la propria stessa esistenza. Per quanto ci riguarda, accontentiamoci di sapere che a fronteggiarsi, presso Ravenna, sulle rive del fiume Ronco, l'11 aprile del 1512, giorno di Pasqua, si trovano da una parte il regno di Francia e il ducato di Ferrara, e dall'altra il regno di Spagna, lo stato pontificio e la serenissima Repubblica di Venezia, coalizzati nella Lega Santa. La Lega di Cambrai, in funzione antiveneziana, costituita da Giulio II qualche anno prima, è stata sciolta e tutti gli stati in campo si sono coalizzati contro la Francia temendone una pericolosa espansione. L'esercito franco estense ha dalla sua una preponderanza schiacciante per quanto riguarda l'artiglieria, con 40 pezzi contro i 24 portati in campo dall'esercito avversario. In questo periodo la cavalleria, incontrastata regina del campo di battaglia per tutto il Medioevo, sta cedendo il passo alla fanteria a causa dell'utilizzo strategico dei cannoni come un vero e proprio rullo compressore capace di decidere le sorti del conflitto. E questa innovazione è compresa e assecondata da Alfonso d'Este, signore di Ferrara. Uomo passionale e ruento, sin da giovane età il duca ha due grandi passioni, per non dire ossessioni. Il sesso, tenendo leggendaria la sua attività di focoso amatore circondato da legioni diamanti e figli illegittimi, e l'artiglieria. Siamo nelle fonderie di Ferrara, come nei laboratori sotterranei dei nibelunghi al di sotto del fiume Reno, tra i fiumi del Crogiolo, i vagliori del fuoco e del bronzo fusi alla creatività distruttrice dell'uomo, sembrano fondersi con pratiche alchemiche. Il duca assiste personalmente da un soppalco alla costruzione dei suoi cannoni con somma soddisfazione. Le pupille dilatate del principe riflettono le scintille delle colate e la sua mano tocca gelosamente il pezzo appena liberato dalla terra. Il suo è un piccolo stato regionale italiano, un'inezia in confronto alle grandi monarchie europee, ma che può vantare un arsenale di armi da fuoco impressionante. Lo si può paragonare all'odierna Corea del Nord, piccolissima, ma estremamente militarizzata e in grado di sostenere un confronto con gli Stati Uniti d'America. Il parco d'artiglierie estense si rivela devastante sul campo di Ravenna, grazie anche alla maestria tattica col quale viene gestito. Gli spano pontifici sono asserragliati dietro una barriera di carri e un fossato su cui si infrangono inutilmente la cavalleria e le fanterie francesi. A questo schema statico il duca Alfonso, davvero pioniere della guerra di movimento, oppone una geniale manovra che si rivelerà decisiva. Egli ordina di portare i pezzi sul fianco dell'esercito avversario, ben attento a celarne lo spostamento dietro i ranghi di fanti lanzichenecchi, guasconi e piccardi. Il devastante fuoco incrociato delle artiglierie estensi sull'immobile e schieramento nemico ne fa strage, gettandolo nel panico. Le palle spente attraversano lo schieramento della Lega, strappando ad ogni rimbalzo le teste e gli arti dei soldati. Tra sangue, terra e schegge, il comandante della cavalleria spagnola, Fabrizio Colonna, non regge al bombardamento. Disobbedendo agli ordini, egli abbandona la posizione e ordina in preda la disperazione, una carica disordinata. È la rotta. La battaglia già vinta, il comandante generale francese Gaston de Foix, la folgore d'Italia, come sarà definito in seguito, tanto cavalleresco quanto sanguinario, traduce il suo ardore guerriero in un'azione suicida. Caricando alla testa di un drappello di cavalieri l'ultimo quadrato, ancora resistente di picchieri e archibugieri spagnoli, Gaston sarà accerchiato, disarcionato e crivellato a colpi di picca. Nello scontro si affrontano ancora una volta, dopo 12 anni, alcuni protagonisti della famigerata di sfida di Barletta. I capitani italiani, Ettore Fieramosca da Capua, Romanello da Forlì e Fanfulla da Lodi, da un lato, e il cavaliere francese La Palisse, dall'altro. Infine la città si arrende, senza condizioni, alle forze franco estensi, subendo un brutale saccheggio. Tra gli incendi, le urla disperate, gli stupri, le rapine, gli sgozzamenti nelle pubbliche vie, in un'atmosfera allucinata e diabolica da dipinto di Hieronymus Bosch, ecco sopraggiungere una figura sfuggente e tremenda. Il mostro di Ravenna sta correndo in città con l'andatura claudicante. Un ghigno soddisfatto gli solca il volto e un riso sguaiato gli esce dalla bocca insieme a una bava giallastra e alla lingua biforcuta. Sta godendo della sofferenza della città che lo aveva cacciato senza pietà, abbandonandolo al suo triste destino. Di quella battaglia rimane, oltre che il racconto, anche un singolare monumento che si chiama La Colonna dei Francesi. Eretto nel 1557, quindi ben 45 anni dopo gli eventi, probabilmente non si può riferire soltanto alla cruenta battaglia che videoposti spagnoli e francesi, ma aveva un significato complesso legato al periodo nel quale fu realizzato. Nel corso dei secoli ha assunto l'unico significato di memoriale per tutte le migliaia di vittime di quella Pasqua di sangue e di Gaston de Foix, la folgore d'Italia che morì in modo piuttosto inatteso in quel 12 aprile di oltre 500 anni fa. Oggi si trova spostata di circa 50 metri dal luogo che si presume dove cadde il prode cavaliere di Francia, sopra l'argine del fiume Ronco, ma ormai sono in pochi a ricordare che esista. Anche qui a Ravenna.